Una foto sulla panchina rossa perché tutta la comunità di Pozzo Novo, guidata dalla sindaca Arianna Lazzarini, porti avanti un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. E così, venerdì e sabato prossimi, si terrà una maratona mirata alla lotta, una vera e propria piaga. Basti pensare che nel 2021 i femminicidi sono aumentati dell'8% rispetto all'anno precedente, una donna uccisa ogni tre giorni. E allora l'onorevole Lazzarini invita i suoi cittadini e le sue cittadine a sedersi per dieci minuti sulla panchina rossa che sarà sistemata davanti al municipio per lanciare un segnale forte che non deve essere limitato a una sola giornata ma tutto l'anno. A cominciare la maratona è proprio la sindaca che si è fatta ritrarre seduta sulla panchina rossa allestita all'interno della Camera dei Deputati.